Buongiorno a tutti, se teme di perderti ti vuole. In questo video voglio spiegarti perché la paura di perdere una persona fa sì che questa persona ti voglia, fa sì che questa persona si senta coinvolta. Se non temi di perderti probabilmente non ti vuole, quindi imparare a far venire la paura di perderti anche a una persona che apparentemente non ti vuole è veramente molto utile. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e canale YouTube Massimo Terramasco attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che sul canale sono disponibili anche gli abbonamenti, ma veniamo al tema. Allora, le persone capiscono che vogliono qualcuno, che sono innamorate quando temono di perderlo. Se non c'è questo timore, se non c'è questa paura di perdere una persona, allora difficilmente sentiranno di amare, sentiranno di essere coinvolta, sentiranno di volere questa persona. Noi non possiamo volere ciò che diamo per acquisito, ciò che diamo per certo, ciò che diamo per sicuro. L'unico modo è quello di iniziare a stimolare la paura della nostra perdita, cioè nel momento in cui una persona inizia a temere, la persona con la quale siamo relazionati inizia a temere di perderci, inizierà a pensare, a credere veramente dal profondo di essere innamorata, di essere innamorato. E allora come si può sviluppare, come si può produrre, diciamo, in questa persona la paura della perdita? Come si può far venire paura di perderci? Beh, ci sono diverse strategie comportamentali. Intanto dobbiamo tenere presente questo, che imparare queste tecniche, queste strategie, è utile non soltanto, possiamo dire, nelle relazioni che si manifestano così nei flirt, ma anche nelle relazioni di lungo termine, perché quello che dà vitalità, diciamo, poi anche dà attrazione, perché di fatto dà emozione, è un po' il dubbio, il timore che potremmo perdere una persona. Noi purtroppo diamo valore, purtroppo, siamo fatti così come esseri umani, diamo valore o a ciò che non è disponibile, o a ciò che è difficilmente disponibile, quindi in cui bisogna mettere energie per conquistarlo, oppure a ciò che, diciamo, abbiamo paura, che abbiamo, ma abbiamo paura di perdere. E la paura della perdita aumenta l'investimento che una persona metterà nella coppia. Cioè, questa è un'altra cosa interessante. Noi come facciamo a capire se una persona teme di perdere oppure no? E in saluto tutte le persone, ovviamente connesse, saluto tutte le persone che mi seguono, e vado avanti. Noi, diciamo, più temiamo di perdere una persona, più investiamo su questa persona, più mettiamo energie su questa persona. Per capire, diciamo, quanto questo sia vero, pensate, ognuno pensi alle relazioni che ha vissuto. Se pensate alle relazioni che avete vissuto, vi renderete conto di come questo meccanismo funzioni. Ogni volta, provate a pensarci alle vostre relazioni del passato, ogni volta che avete temuto di perdere qualcuno, ogni volta che avete, diciamo, perso la possibilità di avere la certezza che una persona sia disponibile nei vostri confronti, allora iniziate a perdere la speranza, tra virgolette, quindi aumenta l'investimento che è fatto su quella persona. Aumentare l'investimento cosa vuol dire? Beh, aumentare energie, aumentare, comportarsi, iniziare a soddisfare le esigenze dell'altra persona. Cioè, voi capite che una persona teme di perdervi quando inizia a soddisfare le vostre energie, quando inizia a soddisfare le vostre esigenze, quando inizia a fare le cose che desiderate. Insomma, si mette, usando un termine tecnico, complementare alle vostre esigenze. Allora, quali sono le strategie che possono essere utilizzate per andare a stimolare questa paura, che poi, tra l'altro, è una paura che tutti gli esseri umani hanno dentro. Sembra paradossale, ma non è un qualcosa di strano. È una paura che tutti gli esseri umani hanno. Perché, pensate ai bambini piccoli, pensate a quando voi eravate piccoli, perché bisogna sempre calibrare le cose su se stessi per poterle comprendere. Se pensate a quando eravate piccoli, magari vi rendete conto che avevate paura di perdervi. La paura di perdersi, che ne so, al supermercato, di perdersi nel bosco, di perdersi, è una paura insita dentro l'essere umano. Perché è una paura tipica del bambino. È perché il bambino, da piccolo, giustamente ha paura di perdersi. Perché sa che, non è che lo sa perché l'ha studiato, ma istintivamente sa che se si perde non ha possibilità di sopravvivere. Un bambino piccolo non ha possibilità di sopravvivere quando è piccolo, se è da solo. Ha sempre bisogno di una persona che possa accudirlo. Quindi questa paura è una paura già presente nell'essere umano. Si tratta solo di stimolarla. Allora, il primo modo per stimolare la paura della perdita è iniziare a concentrarti su di te. Concentrati su di te. Quando interagisci con una persona, sia che sia all'inizio di una relazione, sia che sia nel bel mezzo di una relazione, sia che sia in qualunque situazione si trovi questa persona, è da tenere presente che se tu ti concentri su di te, ti concentri su te stessa, ti concentri su te stesso, non ti fai dare per scontata. Cioè, dai anche una comunicazione forte alla tua mente. Io sono importante. Io sono la persona più importante del mondo. Perché sembra egoistico, ma in realtà per poter anche amare gli altri dobbiamo imparare a amare noi stessi. Anche per poter amare gli altri dobbiamo renderci conto che, diciamo, la paura, cioè che amare noi stessi è un punto fondamentale. concentrarci su noi stessi. Diamo una forte, diciamo, un messaggio al nostro inconscio. Quindi impara a concentrarti su di te, sulle tue passioni, su quello che ti piace. La seconda cosa, e questa a cui molte persone non prestano attenzione, non credono che sia giusto, ma in realtà è così, a meno che una persona, un uomo, o anche una donna, non si prenda impegni certi, sicuri, nei tuoi confronti, cioè ti sposi, venga a convivere con te, dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio di essere, come dire, soltanto concentrato su di te, fintanto che una persona non fa questo, non dargli l'esclusiva. Cosa vuol dire non dare l'esclusiva? Vuol dire che devi frequentare anche altri. Cioè, se una persona dice, vabbè dai, ci vediamo una volta alla settimana, per dire, oppure ci vediamo al giovedì sera al parcheggio del cimitero, oppure ti dice, dai, ci facciamo un bel kebab da sport, oppure ci andiamo al parcheggio del cimitero una volta ogni 20 giorni. Cioè, se una persona si comporta, mette in atto queste strategie, si comporta in questo modo, non devi dargli l'esclusiva, non devi prendere, ah, lui è il mio fidanzato. Ci sono, io ho sentito delle frasi allucinanti, dette da donne, relazionate con uomini sposati, che dicevano, ah no, questa sera il mio fidanzato è con sua moglie. Cioè, il mio fidanzato è con sua moglie. E loro avevano, cioè, e gli ho detto, ma come il tuo fidanzato? Eh, sì, sì, perché lui sta con la moglie, ma ama me, lui sta con la moglie, ma ama me. Ci sono persone che pensano che, appunto, sia il loro fidanzato, ma sta con la moglie, e quindi, arrivano a credere l'inverosimile, arrivano a credere l'inverosimile. E quindi, non importa se ti attrae qualcuno, se non ti attrae, se in questo momento non c'è nessuno che ti attrae, vatti a trovare uno, che ti attrae, uno in più, uno di diverso. Quindi, questo è una cosa fondamentale, fondamentale, non dargli l'esclusiva, non dargli l'esclusiva, e non fare ragionamenti assurdi, del tipo, il mio fidanzato è con sua moglie, oppure, il mio uomo vive con la moglie, ma ama me. E queste sono delle cose allucinanti, no? Credere questo è come, cioè, è meglio credere agli asini, è meglio credere agli asini che volano, ha più senso credere agli asini che volano, che credere al fatto che uno, diciamo, è sposato, possa essere il tuo fidanzato, possa essere il tuo uomo, è il tuo amante, è il tuo amante che si vive una trasgressione, e tu viviti una trasgressione pure. Quindi, non dare l'esclusiva è fondamentale, non è che non è un discorso non etico, ma se tu, ma se tu, diciamo, hai una relazione con una persona, che si manifesta una volta ogni tanto, tu devi trovarti necessariamente altre persone, altrimenti entri in un loop mentale, questo, veramente, entri in un loop mentale, per cui non riesci più a venire fuori da questi stati, no? Perché inizi a sperare, ah, ogni 20 giorni lo vedo, uh, ogni 10 giorni lo vedo, iiii, qua ogni mese lo vedo, cioè, inizi a diventare fedele, diciamo, a un fantasma. Allora, vuoi essere fedele a un fantasma? Eh, continua a essere fedele a un fantasma, però poi non ti lamentare, perché se resti fedele a un fantasma, avrai soltanto, diciamo, della nebbia, avrai soltanto delle cose, non è assolutamente, diciamo, non stai rispettando la tua dignità, e però tutte le persone, lo fanno, lo fanno tutte le persone. Poi, il fatto che una persona stia con te tutto il giorno, tutti i giorni, non significa che ti ami, perlomeno significa che ti dia, ti dedica del tempo, ti dedica delle energie. Eh, però, anche qua, se sta con te tutto il giorno, però non si vuole più gli amici impegni, poi lui se ne va a dormire a casa sua, tu te ne va a dormire a casa tua, dipende sempre dal progetto che uno ha. Però, diciamo che, noi dobbiamo dare l'esclusiva a una persona, quando questa persona, A, dimostra che dà l'esclusiva a noi, B, quando dimostra che, A, diciamo, ci considera come compagni, come compagni, e questo è, è un qualcosa di fondamentale, altrimenti, se non, se non accade questo, non dà l'esclusiva. Poi, un'altra tecnica che aiuta molto, per farli mantenere, diciamo, per farli percepire, che, che, per farli percepire la tua perdita, per farli venire alla paura di perderti, è la tecnica del push-pull, il tiro e molla. Non è che devi usarlo costantemente, il push-pull, però può essere utilizzato come rinforzo, quando fa qualcosa di positivo, ti manifesti, insomma, non gli dai l'idea che sei sempre lì, pronta a scodinzolare. Ogni tanto che, ogni tanto che, cercava qualcuno, ogni tanto che, quando ti cerca, ogni tanto non ci devi essere. Perché, il problema qual è? Che se lui ogni volta che ti cerca, tu ci sei, beh, non avrà mai l'idea che, di essere, che ti potrà perdere. Eh, questo è un dato di fatto, no? Cioè, sia che ti cerchi una volta a settimana, sia che ti cerchi una volta al mese, sia che ti cerchi ogni quanto ti cerca, ma se ogni volta che ti cerca, con le sue frequenze, tu dici, sì, sì, ci sono, beh, come farà a pensare che tu possa, come farà a pensare di perderti? Non lo potrà mai pensare. se invece, se invece ogni tanto che ti cerchi, diciamo, guarda, stasera ho una cena, mi hanno invitato a cena, eh, vado a cena, non ci sono, facciamo un'altra volta, devi avere il coraggio di dire di no. Deve avere il coraggio di dire di no. Questo è un qualcosa di fondamentale. Se non hai il coraggio di dire di no, non riesci a ottenere, diciamo, nessun risultato. Quindi, ogni tanto, devi negarti. E questo è un punto fondamentale. E poi un'altra strategia, un'altra tecnica che può essere utilizzata, quella che viene chiamata il rinforzo intermittente. Il rinforzo intermittente è la stessa strategia che viene utilizzata, ad esempio, nei giochi d'azzardo, eccetera, dove si, si danno delle gratificazioni alternate a penalizzazioni. Eh, perché la persona tende a sviluppare un'ossessione verso, verso di te. Quindi, e questo è, è fondamentale, insomma. E, rinforzo intermittente. Anche l'effetto Zeigernick, cioè lasciare delle guest altaperte, lasciare delle, dei dubbi. Insomma, lui deve avere il dubbio che, se uno è sposato, deve avere il dubbio che quando lui è a casa con la moglie e tu sei in monta con qualcun altro. Poi, se una persona è sposata, assolutamente non devi essergli, tra virgolette, fedele, perché non ha senso essere fedele a uno che tradisce la moglie. Questo è un altro discorso di fondo, no? Se tu hai affare con uno sposato, devi necessariamente andare con altri. Questa è una regola base. Tu non puoi avere una relazione esclusiva se sei single con una persona sposata, a meno che non lo fai per, cioè, io potrei avere una relazione con una donna sposata, ma non me ne frega niente, cioè, non è che lo faccio per svuotarmi ogni tanto, punto e basta. allora va bene, ma non la vedo neanche come una relazione, la vedo soltanto come una fonte di svuotamento ogni tanto, ma se una persona si coinvolge con una persona sposata, quello è un grave errore. Ecco che queste strategie, diciamo, semplici, sono poi strategie comportamentali semplici e sono strategie comportamentali che funzionano, però, hanno proprio l'utilità di far capire questo. l'innamorarsi di una persona sposata, ad esempio, è la cosa peggiore, anche se, non bisogna mai innamorarsi di una persona sposata. Qual è il modo? Dice, ma io lo amo, io lo amo, sono quelli che dicono, io lo amo, io lo amo, è sposato, ha sette figli, ma io lo amo, io lo amo, sta con la moglie, ma io lo amo, io lo amo, ma non vedi che non mi frega niente di te, ti cerco ogni tanto, ma io lo amo, io lo amo. Allora, se una persona si comporta in questo modo, io lo amo, io lo amo, allora, quello che tu devi fare è, come dire, non dargli assolutamente, non devi innamorarti, devi disinnamorarti, l'unico modo per disinnamorarsi è fare altre azioni, e fare altre azioni, l'unico modo per disinnamorarsi è fare altre azioni, più ci stai a pensare, più ti innamori, quindi, inizia ad andare con altri, inizia a frequentare altre persone, inizia a non dare di energie, noi ci innamoriamo delle persone a cui diamo energie e pensieri, quindi smetti di dare energie e pensieri, ogni volta che ti viene di pensare a quello, dirò ti i tuoi pensieri da qualche altra parte, e questo non c'è altro verso, perché se tu dici, io lo amo, io lo amo, e continuerai ad amarlo sempre di più, e meno ti darà, più lo amerai, non ci sono altre possibilità, purtroppo non ci sono altre possibilità, questo è un qualcosa che si manifesta, per cui bisogna assolutamente far così, e non bisogna neanche, la cosa principale che dobbiamo fare è imparare a dare dignità a noi stessi, io lo amo, bisogna amare una persona che ti dà qualcosa, non ci sono altre vie, giustamente, non ci sono altre vie, perché più tu dai energie, più ti coinvolgi, non è che poi uno dice la testa deve prevalere sui sentimenti, non è neanche tanto che la testa deve prevalere sui sentimenti, i sentimenti sono malposti, cioè nel senso che vuol dire che tu sei, senza, non sai darti emozioni, perché se uno ama una persona sposata che, oppure ama uno che è innamorato del lavoro, ad esempio, perché se, faccio l'esempio di una persona sposata, potrebbe essere uno che è innamorato del lavoro, no? Che è innamorato, pensate ad esempio agli etilisti, uno che è innamorato della bottiglia di vino o della bottiglia di whisky o di una sostanza, è uguale, non cambia mica niente, non c'è una sola differenza tra uno che è innamorato della moglie, uno che è innamorato del lavoro, uno che è innamorato di una bottiglia di vino, sarà innamorato di qualcos'altro ma non è innamorato di te, che sia una donna o un uomo, che sia una bottiglia, che sia un lavoro, che sia qualcosa, vuol dire che tu non sei al primo posto delle sue priorità. E allora, se una persona non ti mette al primo posto delle sue priorità, tu devi metterlo all'ultimo posto delle tue priorità. E questo per una questione di dignità personale, no? Cioè, perché comunque anche i rapporti di amicizia devono essere sempre un doubt des. se una persona ti dice io amo la vita, cosa vuol dire che ami la vita? Cioè, chi è che non ama la vita? Cioè, magari c'è qualcuno che non ama la vita. Ma la cosa fondamentale è quello che se tu interagisci con una persona che non ti dà quello che tu vuoi, se lui ama la vita devi amare anche tu la vita, vuol dire che non gli dai fedeltà. La fedeltà bisogna darla soltanto alle persone che ti danno fedeltà. Il tempo devi darlo soltanto alle persone che ti danno tempo. Il tutto devi darlo a qualcuno che ti dà il tutto, altrimenti gli dai niente. Se una persona ti dà il 10% del suo tempo e delle sue energie e tu di più di quel 10% del tuo tempo e delle tue energie non devi darti, perché altrimenti diventa un rapporto per cui, siccome abbiamo una sfera emotiva che è anche disposta a nutrirsi del male e non del bene, può accadere questo, quindi è molto importante imparare a gestire le situazioni da questo punto di vista. È veramente fondamentale, direi che è una delle cose più importanti. D'altra parte non bisogna neanche cadere nel lato opposto però, con uno che è geloso e possessivo. Anche l'opposto non funziona, cioè una persona che è gelosa e possessiva, a parte che chi è gelosa e possessivo normalmente tradisce pure, perché, come dire, la gelosia è mancanza di fiducia, quindi tende a tradire, però, ammettendo anche che non tradiscono, una persona che è gelosa e possessiva e che ti sa col fetto sul collo, non va bene neanche. Cioè, in media virtus est, non va bene né un polo ma neanche il polo opposto, cioè non va bene quello che se ne fotte, ma non va bene quello che ti mette la cintura di castità e ti lega a casa, no? E poi, arriviamolo, a parte che quelli che fanno così, poi loro si fanno i cazzi loro, diciamo, no? È una mentalità, che ne so, di una certa cultura, soprattutto maschilista, che dice, la donna a casa è col burca, per dire, è l'uomo al bordello, al casino, a fare, ecco, con le mignotte. E questo è un'altra cosa, no? Questo è un tipo di mentalità abbastanza, per quello io credo anche che, da un punto di vista culturale, è molto, come dice il proverbio, moglie buoi dei paesi tuoi, cioè a parte gli scherzi, è molto meglio avere, diciamo, a che fare con culture simili alle nostre, non tanto perché siano migliori o peggiori, ma proprio perché sono simili, no? Proprio perché sono simili, culture molto diverse, io non sto dicendo che sono migliori, peggiori, o sono semplicemente diverse, quindi le cose diverse a lungo termine non funzionano, a lungo termine non vanno, no? Le cose che funzionano sono le cose omologhe, simili. quindi questo è molto importante, le persone che ti impediscono di fare delle cose, ah, tu non devi andare in palestra, tu non devi fare questo lavoro, tu non devi uscire con le amiche, con gli amici, tu non devi avere, non so, fare il corso di ballo, tu non devi fare questo, non devi fare quello, non devi vedere questo, non devi vedere quello, non devi parlare con lei, ci sono alcune persone addirittura che arrivano a cercare di impedire che l'altro tenga, che ne so, su Instagram, per dire, su Facebook, le foto dell'ex, cioè sono gelose dell'ex, delle foto dell'ex che tiene sul profilo, quando l'ex non è che una volta che finisce la relazione butto a mare tutto, no? Fa parte della mia vita, ho sviluppato una relazione con questa persona, per cui sarà mio diritto tenere le foto nei miei social o nelle cose, è certo che ho mio diritto, e nessuno ti deve assolutamente diciamo dire quello che devi fare e quello che non devi fare, questo è un modo questo è un modo diciamo per questo è un modo per capire se una persona tiene a te oppure no fondamentalmente, se una persona e se tu soprattutto devi mollarla o devi tenerla, se una persona ti chiede di cancellare le foto degli ex ti chiede che non devi vedere quello non devi vedere quell'altro togliti dai piedi quella persona ti sta dando informazioni che non è la persona giusta per te togliti dai piedi perché se poi non te la togli dai piedi e continui a tenersi quella persona e continui a tenertela e poi non ti lamentare no? è perché se tu te la tieni che cavolo ti lamenti? lamentarsi non serve a nulla sperare di cambiare le persone non serve a nulla sperare che una persona possa cambiare è molto più facile cambiare a persona che sperare che una persona possa cambiare fuori dai maroni bravo fuori dai maroni bisogna estrarre il set di bastoni fuori dai maroni cioè alla fine se una persona non ti va cambia persona è come dire è inutile che se tu compri come dire che ne so un qualunque oggetto quando questo oggetto non funziona più si rompe che fai? si provi ad aggiustarlo ma se poi è inaggiustabile o se costa di più ripararlo che aggiustarlo lo cambi è come dire una televisione se si rompe lo schermo LED per dire che ripararlo costa che ne so 500 euro cambia la televisione costa 400 che fai? il problema è se io la amo io la amo non va bene perché noi dobbiamo imparare a innamorarci di chi ci dà amore e questo è il problema perché se no si può amare tutti poi io lo amo mi sputa in faccia tutte le mattine ma io lo amo io lo amo mi riempie di botte tutti i giorni ma io lo amo io lo amo mi fa le corna di lungo ma io lo amo e significa che non sai darti emozioni quando arrivi ad amare qualcuno che non ti dà quello che vuoi è perché tu non sai darti emozioni è perché è perché diciamo è perché tu non ti sai dare emozioni è perché praticamente è come se fossi un assetato di emozioni e si piglia le emozioni che vengono è come se fosse uno che teme diciamo che ha paura per così dire che ha paura che è assetato esce fuori dal deserto e si beve l'acqua sporca nella pozzanghera dobbiamo impararci a dare emozioni dobbiamo imparare al fatto che prima di tutto dobbiamo amare noi stessi cioè io lo amo io lo amo funziona soltanto se prima di tutto sai amare te stesso amare te stesso cosa significa? significa che se tu non ami te stesso se tu non ami te stesso non hai possibilità amare se stessi significa recitare tutti i giorni il mantra io sono la persona più importante del mondo io mi amo e mi accetto così come sono io sono io sono la persona più importante del mondo poi dopo magari anche tu ma io sono la persona più importante del mondo io inizio amare me stesso poi per carità posso amare tutti gli esseri senzienti ma se non amo me come dire non riuscirò mai nessun altro quindi quando c'è un conflitto di interessi tra l'amore per se stessi e l'amore per gli altri e deve prevalere l'amore per se stessi bene comunque vi invito tutti a iscrivervi al mio canale youtube canale youtube ovviamente massimo terramasco ma anche agli altri miei canali youtube crescita personale felicità benessere morto stima e iscrivetevi e attivate la campanella così sul canale youtube potete anche ricevere nuovi le notifiche dei nuovi video un saluto a tutti ciao a tutti al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti